Ho bisogno di parlarti. Allora, ammetti che ho ragione, Bruno? Sì, non verrò in vacanza con voi. Mi sembra una saggia decisione. Così le cose con Nina si raffredderanno. La distanza ci farà bene. E il matrimonio ci aiuterà a non alimentare questa illusione. È una fiamma che deve assolutamente spegnersi prima che ci provochi dei problemi. Grazie a tutti.